Benvenuti, siamo con il dottor Alberto Perlai, medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva e ricercatore per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Studi di Milano, esperto di prevenzione dell'età evolutiva e di autore di molti volumi per i bambini, genitori e insegnanti. Benvenuto dottore. Grazie mille, buongiorno a tutti voi. Dottor Perlai, possiamo affermare che i giovani sono lo specchio della società in cui crescono. La famiglia e la scuola rappresentano i due principali istituti educativi, eppure entrambi vivono una profonda crisi. Come stiamo educando i nostri ragazzi e come corregge il tiro partendo dalla valorizzazione dell'educazione emotiva? Penso che la fragilità che vediamo oggi in effetti è un po' paradossale, perché siamo la prima generazione di adulti che si è davvero tanto occupata di crescere figli felici, di garantire e tutelare il più possibile la felicità dei soggetti in età evolutiva. E paradossalmente poi adesso ci troviamo in realtà con una generazione di adolescenti che è in profonda crisi e che ha indicatori di salute emotiva e mentale molto affaticati, in alcuni casi molto compromessi. Che cosa non ha funzionato? Credo che in realtà gli adulti abbiano fatto tutti gli sforzi che dovevano essere fatti, ma allo stesso tempo non hanno tenuto sotto controllo alcune profonde modificazioni e variazioni degli stili di vita che hanno pervaso poi in modo intenso il modo di stare al mondo e di crescere dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Quindi c'è stata una grande concentrazione sul potenziare il sapere e il saper fare. Scuola e famiglia si sono attrezzate tantissimo per permettere a bambini e bambini, ragazzi e ragazze di apprendere molte cose in più rispetto alle generazioni passate, ma in realtà poi non c'è stata un'equivalente cura del saper essere. Quindi quello che è accaduto è che mentre venivano formati, addestrati a tante nuove abilità e competenze, quei bambini e quelle bambine così preparati poi venivano in realtà fatti crescere in luoghi riscretti e chiusi, complici anche il Covid, sono stati molto dentro alle loro stanze, sono stati poco nel mondo fuori, hanno ridotto i loro compiti di socializzazione, la quantità e la qualità delle relazioni che vivono e questo ha avuto un impatto molto forte poi sulla loro competenza emotiva, sulla costruzione del senso di sé, sulla generazione di un'identità ritenuta valida e funzionale, sulla percezione del loro protagonismo. Paradossalmente probabilmente alcuni nostri studenti e studentesse si sentono quasi più validi ed efficaci nella vita virtuale, che è una vita che non c'è, rispetto che nella vita reale, che invece è la vita che devono imparare ad abitare. Quindi probabilmente anche la crisi che stiamo vivendo adesso ci fornisce delle indicazioni dei ripensamenti a cui non possiamo sottrarci se vogliamo sostenere in modo adeguato la crescita delle future generazioni. Ecco lei ce l'ha appena accennato, viviamo sempre meno nella relazione. Questo soprattutto in età evolutiva può rappresentare un grave problema nella conoscenza e nella formazione della persona. Luoghi di incontro e socializzazione come la scuola rappresentano un elemento sempre più importante per la crescita anche emotiva. Appunto, gli chiedo, quanto sono importanti questi aspetti? Sono molto importanti. In realtà noi siamo dotati per definizione di una mente che è interpersonale e che costruisce il proprio benessere esclusivamente nella relazione con gli altri. È molto difficile conquistare la felicità nell'esperienza della solitudine e dell'isolamento. Per qualcuno è possibile, ma è possibile farlo dopo aver avuto un'intensa capacità di stare in mezzo agli altri. Ecco, poi può esserci anche la fase della solitudine. Di sicuro in età evolutiva invece è fondamentale che i bambini e i bambini e i ragazzi e i ragazzi socializzano. E qua l'aspetto davvero più inaspettato è che spesso per alcuni bambini e i bambini, ragazzi e ragazze, la scuola è l'unico luogo di socializzazione. Cioè è un'agenzia educativa in cui si entra, si socializza e si apprende, però all'interno di una cornice che propone un supporto formalizzato alla crescita. C'è poi tutto l'aspetto invece legato alla dimensione informale del vivere, del crescere, del relazionarsi con gli altri. Una dimensione che ha bisogno di luoghi di aggregazione, di relazionalità informale, di aspetti che non sono addestrativi, ma sono esplorativi, di esperienze, di gioco che non sono all'interno della logica o della scrittura di uno sport, per esempio, ma che sono modalità con cui bambini e bambine, prima i ragazzi e ragazze, si mettono in relazione, si intrattengono, passano il tempo, imparano a socializzare, generano relazioni e poi magari entrano dentro i conflitti e poi devono riparare la relazione, ricostruire l'intesa con l'altro. Ecco, tutto questo cantiere della crescita, che è poi il cantiere del saper essere, effettivamente è molto ridotto e tra l'altro la scuola si trova poi implicitamente ad essere l'unico cantiere in cui queste cose avvengono e possono avvenire. Quindi in questo momento è davvero un luogo di importanza cruciale, perché oltre a svolgere le proprie funzioni di sostegno alla crescita e di apprendimento, è un vero e proprio luogo di sanità pubblica, cioè è quel luogo che tu te le garantisce ancora a bambini e bambine, ragazzi e ragazze di trovarsi insieme ad altri, di compiere quelle funzioni di socializzazione così importanti, però riagganciandoci anche alla risposta precedente, noi adulti dobbiamo acquisire nuove consapevolezze rispetto a tutta una serie di bisogni, cioè la scomparsa dei cortili, la scomparsa dei bambini nei parchi, la scomparsa dei luoghi della città che erano preposti proprio alla socializzazione di ragazzi e ragazze. Oggi se ragazzi e ragazze si devono trovare da qualche parte come adolescenti c'è sempre un biglietto da pagare, c'è sempre una consumazione che viene resa obbligatoria, tutto questo non fa bene alla crescita. Ecco, professore, ci è stato insegnato di rincorrere sempre la felicità, quando invece il nostro equilibrio emotivo, la nostra omeostasi emotiva, si raggiunge dal giusto bilanciamento delle emozioni contrapposte, come il piacere ed il dolore. Come accettare ed educare anche le emozioni negative? Direi questo, intanto avendo ben chiaro che essere felici, un po' come dice la domanda, non significa sorridere sempre. Cioè la vita, la persona felice non è la persona che ha tutto, ma è la persona che costruisce un equilibrio intorno a quello che ha e intorno a quello che gli accade. E la vita accade con tutto, il bello e il brutto, quindi l'idea di tenere fuori il brutto dalla vita delle persone è un'idea senza senso, tant'è che poi noi siamo in effetti dotati di sei emozioni primarie, di cui quelle che ci procurano fatica e disagio sono doppie rispetto a quelle che ci procurano invece benessere ed agio, perché nelle emozioni primarie abbiamo felicità e sorpresa, che sono chiaramente emozioni che da subito ci fanno stare bene, mentre abbiamo poi rabbia, tristezza, paura e disgusto, che sono invece emozioni che ci procurano un disagio, una fatica, che spesso ci procurano malessere. Ecco il tema grande è che essere felici non vuol dire non essere mai tristi, impauriti, arrabbiati, ma vuol dire che quando entro in queste emozioni io so riconoscerle, io so renderle valide, io so attribuire ad esse un significato, io so attraversarle e superarle, non bloccarle e negarle, che è un'operazione impossibile, per cui il giusto bilanciamento è permettere alla vita di accadere con tutte le sue cromature e con tutti i suoi avvenimenti e quello che serve invece ai nostri figli è renderli capaci, attrezzati per gestire, maneggiare, affrontare tutte le emozioni, quelle belle e quelle brutte. Effettivamente credo che un limite oggi molto grande dei ragazzi e delle ragazze sia che hanno maneggiato pochissimo le sensazioni e le emozioni che generano fatica, disagio, frustrazione, quindi anche una minima… e sono molto allenati invece alla gratificazione istantanea. Questo comporta che anche una sensazione perturbante, negativa ma di debole entità possa essere percepita come una cosa enorme, perché va a inserirsi in un sistema che non ha alcuna abitudine a stare dentro quel genere di territorio e di questo ecco dobbiamo in qualche modo diventare consapevoli. Credo che la sfida più importante sia quello di rieducare lentamente i ragazzi a rinunciare a quella enorme quantità di stimoli che li portano nel territorio della gratificazione istantanea e permettere a loro di avere esperienze che sono magari più lente, meno eccitanti, meno luccicanti, ma poi molto più capaci di ancorarli al principio di realtà. Ecco, un'ultima domanda. Spesso i genitori sono troppo protettivi nei confronti dei loro figli. Questa porta anche ad episodi sgradevoli nei confronti degli insegnanti, visti come dei disturbatori dell'acquietti dei ragazzi. Quando è importante invece il diritto all'errore e all'assunzione della propria responsabilità per i più giovani? È importantissima e soprattutto diventa sempre più importante quanto più i figli e le figlie si addenclano nel territorio dell'adolescenza. Un figlio adolescente non dovrebbe poi mai trovarsi a contatto con un genitore che va a combattere le battaglie e le guerre del figlio, quindi quello che noi dovremmo aspettarci è che l'adolescenza è quel tempo in cui un figlio smette di essere dipendente, anche da tutta quella protezione, da quella comfort zone che l'adulto gli mette a disposizione perché sente che è arrivato il momento della propria vita in cui si attiva lui, combatte lui o lei le proprie battaglie. Questo tra l'altro permetterebbe al mondo adulto di generare una mente adulta comune con cui interfacciarsi con chi sta crescendo, perché se sei adolescente devi combattere le tue battaglie e scopri che in realtà, e chiaramente lo devi fare nei confronti del mondo adulto, e scopri che in realtà il mondo adulto è in battaglia al proprio interno nella logica di tutelare i tuoi bisogni come se tu fossi un bambino piccolo, ecco che questa roba qua diventa caotica e non è di nessun aiuto a nessuno, né a chi cresce né a chi deve far crescere, quindi dentro a questo modello effettivamente la fragilità dei genitori del terzo millennio è che spesso deve tutelare e proteggere il proprio figlio nell'esperienza della sconfitta e dell'errore quando invece quelle esperienze sono esperienze assolutamente necessarie nel percorso di crescita, l'età evolutiva si chiama così perché deve evolvere e per evolvere ha bisogno di fare errori e di apprendere da essi, altrimenti sarebbe un'età già evoluta, però è molto vero che gli adulti di oggi tollerano pochissimo l'esperienza della caduta, della sconfitta o dell'errore del proprio figlio, quindi si generano questi enormi corti circuiti in cui poi l'ansia diventa l'emozione dominante, perché è l'ansia dell'adulto che non vuole mai vedere il proprio figlio cadere, fallire o non salire sul podio e chiaramente l'ansia di quel figlio che di fronte a nuove sfide si domanda sarò all'altezza del compito, ma non se lo domanda in termini di competenze per affrontarlo, se lo domanda già da subito in termini di risultato e performance, cioè come deve essere il mio risultato finale, come deve essere la mia performance, spostando perciò il focus dei propri sforzi e della propria attenzione sul risultato e non sul percorso, che è il peggiore degli autogol che può avvenire nel contesto di crescita. Grazie dottor Pellai per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a voi.